Sicurezza, un tema molto importante. Oggi un evento organizzato dall'Ufficio Italiano del Parlamento Europeo al quale ha partecipato anche la Ministra Lamorgesia. Le cyber minacce, infatti, se in molti casi sono manifestazione della criminalità comune che per realizzare profitto agisce con nuovi metodi, in altri tanti casi provengono da soggetti che sono muotati da istanze strategico-politiche. Non a caso, infatti, i dati emergenti dalle attività della Polizia Criminale e della KNIPIC, che è il Centro Nazionale Anticrimine Informatico, evidenziano che nel 2020 i reati informatici sono aumentati nel 33% e gli attacchi cibernetici diretti a infrastrutture critiche sono più che raddoppiati rispetto all'anno precedente.